C'è la Monica, ha detto dopo di chiamarla appena è finito Non ho capito, che devo dire? C'è una domanda Ah, ma come mai il singolo è uscito solo da poco? Se poi si è sottotato da un po', ma che vuol dire? Se ci sarò sentito Ma poi è uscito da poco, dove? Che è uscito da poco, sì, forse sì Ah, sì, so più sempre Non, 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 non. Non, 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 non lui non aveva l'autorizzazione della casa discografica di Econ ok, quindi era un po' tardi per farla uscire praticamente durante l'estate questa canzone quando lui ha avuto l'autorizzazione quindi ha deciso di farla uscire all'inizio di settembre ok, ha fatto quindi un po' di promozione durante l'estate per questa canzone con dei piccoli video anche delle performance o delle serate anche private e poi alla fine l'ha fatto uscire voilà per la question va bene? va bene per la question? grazie la risposta è detto allora grazie Bob Sinclair allora è colpa di Econ grazie a te, grazie a te